Ehi la ciurma, io sono Mazzatese e ben ritrovati qui su Imperator Room a gestire questa complicatissima guerra di Mauria e di Macedonia in contemporanea. Ehm... Pfff, pfff, pfff... Ehm... Cosa? No vabbè non è troppo problematico se prendono solo quello. Sono comunque i forti là in mezzo ai piedi che gli danno fastidio. Ehm... Oh mi piace questa musica. L'apprezzo particolarmente, è una delle mie preferite. No forse è anche la mia preferita in assoluto. Ok dovrebbero schiantarsi contro di noi in questo momento. Do... Abbiamo vinto? Ah perché loro sono andati via anche. Dove vanno? Ah, a Linda. Noi non possiamo andare ad Alinda. Mi ha preso dei mercenari troppo numerosi mi sa. Sta prendendo una vagonata di atterrito. È vero che non lo paghiamo con il nostro manpower. Ecco l'atterrito. Però... Lo paghiamo comunque. Abbiamo vinto Trudzel. Neanche mi ero accorto che... Ah! Oh! Ce ne stanno arrivando altri addosso. Ma inizio che vinciamo anche quella comunque. Vai, va bene. Ma come? Scusami, ma ce l'abbiamo quasi completamente occupata la provincia. Perché mi dice che abbiamo fallito? No, il world goal è contestato. Ma cosa sta dicendo? Rudiana. Ce l'abbiamo praticamente in toto? Non è nostra la Rudiana, scusatemi. La Rudiana, questa, eh? Ah, forse manca questo pezzetto qua? Manca quel pezzetto là, poverino. Ma porca miseria. No, non riusciamo ad andare là in modo sensato. Andateci voi. Non so cosa dire. No, wow, 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 attenzione. Aspetta, eh. No, cosa... Eh? Ne stanno arrivando a 36.000 ancora. Eh... Non dovrebbe essere un problema per noi gestirli, ma... Ah, là arriva dalla gente. Eh, voi salite su perché... Mi sa che presto o tardi avremo bisogno di... Gente qua. Dove dobbiamo arrivare? Quassù. Quindi voi... Andate... E voi andate. E voi qua. E voi anche avanzate fin quassù perché ho bisogno davvero di... Gente un po' su tutti i fronti. Per piacere, per piacere. Arrivati in tempo. 7 dicembre. Loro quando arrivano? Dopo. Arrivano dopo. Ottimo. Tutto bene? Arrivano a battaglia conclusa. No. Ma comunque dovremmo vincere a noi senza... Troppi problemi. Mi dice ancora che il world goal è contestato? Non me ne ero neanche accorto. No. No. No, 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 no. Non ho più generali qua, non va bene. Adesso mi continuo a dire che contesto... Ah no, adesso ce l'ho io. Ok. Porca miseria. No, quelli stan bene là adesso. Qua. Con questi riprendiamoci la zona. Non so quante navi hanno ancora loro, perché... Zero? Zero? Li abbiamo distrutte tutte? Meglio così. Allora. Guardi, ma c'è Daniela. Mi sa che è andata. Posso trasferirsi a COS? Trasferisco tutte le occupazioni a COS. Facciamo pace. Dov'è il resto della Macedonia? Ah, qua, ma non posso chiederlo. Eh, diventa un monoprovincia. Ok, questi lì... Sbantelliamo, scusatemi. Vai. E... Queste navi nel dubbio le mettiamo in porto là dal nostro amico COS. Guarda di Macedonia è risolta. È già una cosa importante. Ce la togliamo dai piedi. Ora... Ok, abbiamo vinto questa battaglia. Molto, molto bene. Anche perché così possiamo continuare ad avanzare. Allora, questo è un bomb generale? Nove. Sì. Direi proprio di sì. E... Il signor dodici anche. No, questo è un signorotto. Però è mercenario, quindi ci sta. Allora, muoviamolo via di là. Allora, ci togliamo di mezzo un po' di gente. Non ce la fate voi da andarmene. Dodici febbraio. Dai. Avanzare, avanzare. Ok. Andate qua su. Molto bene. No, avanzare ancora di più. Ok, abbiamo vinto qua. Splendido. E ora si stanno ritirando. Da tutte le parti. Ed è una cosa ottima. Ecco, anzi. Muoviamo con entrambi in là. Qua tu puoi anche togliere le... Marce forzate. Queste rimuoviamo in giù. Vai, va bene. Tottenish faccio scendere in giù. C'è un combattimento qua. Ahia. Allora, andate qua. Anche se è ormai andata la situazione. Ma ne arrivano oltre 18.000. Ehm... Qua. Queste 12.000. Salite qua. C'è 12.000. 20.000 con il generale 12. A gestire un po' la situazione. Mmm. Perché stiamo perdendo? Come non abbiamo più l'aerudiano? Ah, si sono ripresi queste perché c'è il forte. Porca miseria, è vero? Oh, niente. Voi tizi qua... No, cos'è? Che giro fanno? Ah, no. Perché c'è il mio in mezzo che blocca. Perché è loro. Con questi posso andarci invece. E ci andrò. Allora, voi dovete rimanere sofforzate che se no non recuperano mai più il manpower e il morale. Quanto ci manca ancora? Eeeh... Un po'. Ok, a gare abbiamo vinto ma adesso ci si schiantano contro gli altri. Mi sembra un'ottima situazione. Abbiamo qualcuno da mettere qua come pit stratego? No. Non abbiamo più nessuno in assoluto. Allora, il world goal è contestato perché c'è sta provincia. In ciò che... Non riusciamo a tenerci. Attento, questi perché hanno tutti così... Sono messi così male? Ci hanno attaccato là? Non credo. Ah, anche senza che ci arrivino qua se riusciamo a farci. È buono. No. Sono stupido perché eri mossi. Stanno diminuendo le cohorti. Ma sono ancora molte di più delle nostre. Ahia, ahia. Stati salendo? Salite, salite perché qua... Rischiamo... Problemi. Rischiamo problemi perché non abbiamo dei forti là per difenderci. Oh! Counter Civilization Value. Magari ci togliamo dai piedi qui, cavolo di... Barbaro una volta per tutte. Oh! Di nuovo gente che mi rompe le scatole qua. Ma qua si schiantano anche... Inutilmente, vabbè. Ok. Voi andate qua sotto a distruggere questi che mi rompono le scatole. Ok. L'abbiamo perso? Sono arrivati 27.000 che non l'abbiamo visto. Porca miseria. E questi dove si ritirano? Eeeh, ciaoone. Questi cercano di chiudermi. Porca pupazzo, non è una cosa che vogliamo. A parte questi dovremmo schiacciarli come niente. Abbiamo in generale di livello 12. Ok, questo ce lo siamo ripreso almeno. Ottimo. Continua a rinvermi gente addosso là. Ma vabbè. Quei 40.000 là sono abbastanza tranquilli. Non sta succedendo niente. Non so se spostarli. Se così quasi sì. Anche perché prima che arrivino qua giù... Ci va parecchio tempo. No, allora facciamo che... Forced Marche. Forced Marche. Che dobbiamo attraversare metà dell'Asia. Ah, qua la situazione è tutta sotto controllo. Tranne questi mille uomini qua che vabbè. Allora, qua avanziamo. Con entrambi e con questi e con questi. Allora, vediamo a cercare di gestire questa piccola crisi che si è creata qua. Vediamo un attimo. Sure for peace. Allora, noi vogliamo. No, aspetta. Uh, fin qua ce lo darebbe. Non è male. Poi abbiamo bisogno anche di... No, togli sta roba qua. Non ci interessa. Vogliamo solo la fascia costiera. Per ora ce lo darebbero. Quindi può darsi che siano un... Una pace accettabile ai loro occhi. Quello di darci tutte quelle strisce di terra... Fin su, in cima. Abbiamo vinto, trazzel. Ottimo. No, trazz... Scusa, trazzel. Dov'è trazzel? Questa fosse questa, trazzel. Ah no, qua... Ma continuano a schiantarcisi sopra la trazzel. Ma perché? Boh. Vabbè, questi mercenari teniamoceli là nel dubbio perché... Ah, sono saliti in su per scendere di nuovo in giù. A Zranca abbiamo vinto di nuovo. Però c'è morta tantissima gente. Abbiamo delle zone qua dove poterci riparare? Sì. Baccat è vinto? Ottimo, 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 davvero. Qua ci stanno? No. Andate qua allora voi. Questi potete scendere qua. Tanto credo che gli altri... No. Gli altri dovremmo sconfiggere, vabbè. Cos'altro volevo dire? No, ecco qua. Facciamo che muoverli qui perché se... Se là non prendiamo attrito è molto meglio che non tenerci delle zone di attrito. Porca miseria. No, vabbè, no, stanno muovendo già gli altri. Non è necessario. Prendiamo questi. Allora, starà attenzione perché qua è una situazione molto delicata. Infatti stanno muovendo qua. Questi si stanno ancora ritirando sugli stessi prime. Questi quasi rimuoveremo in su. No, però no, perché qua potremmo avere problemi, ecco, infatti. No, marce forzate. Mi sa che finisce la battaglia prima lo stesso, però... Arrivano il 30 dicembre. Non penso che la battaglia duri così tanto. Allora, cercate di recuperare un po' di gente voi, magari. Ok, qua li abbiamo distrutti. Buono. Ok, a Mosarna abbiamo vinto. Oh! Al pelo proprio. Ma continuano a guadagnare un sacco di soldi loro. Nonostante l'attuale situazione. Dai, arrivatemi in fretta per piacere. Perché questi li ho mossi qua? Ah, no, questi sono i mercenari. Ok. Al pelo, al pelo. Eh, io direi che questi 21.000 però mi servono molto di più quassù. Per cui... No, vabbè, questi li ritengo qua, va bene. Ah, vabbè, guarda, ne abbiamo altri 20.000 là dietro. Ok, ci sta. Accetto, accetto, va bene. Ma ancora? Ma... Volete smetterla? Ok. Tornate laggiù, voi, nel mentre. Sono altre truppe a cui devo fare attenzione. No, al momento no. Ma direi che per questo episodio può essere tutto, perché ci stiamo protraendo, altrimenti troppo a lungo. Mi invito a continuare a seguire questa guerra importantissima che deciderà se riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo oppure no, nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.